ciao a tutti e benvenuti sul mio canale oggi in questo video vedremo come realizzare un piccolo power bank con un piccolo moduletto denominato t6845c perché faccio questo video praticamente io avevo un piccolo power bank che avevo fatto anche vedere sul canale che praticamente portavo dietro nel momento in cui ne avesse avuto bisogno il problema praticamente quello che è successo è mi è caduto e dal momento in cui è caduto non ha praticamente rotto il piccolo circuito di alimentazione e non è diciamo più non ha dato più segni di vita quindi ho pensato di trovare un modo per poterlo riparare l'ho smontato ma in realtà non ne valeva la pena a questo punto ho cercato in rete un pochino qualche circuito da sostituire quindi in questo caso questo piccolo circuito che vedete qui nelle immagini può essere utilizzato sia per creare un piccolo power bank quindi magari da batterie le classiche 18650 batteria litio quindi magari abbiamo una scorta di batterie vogliamo fare un piccolo power bank portatile possiamo utilizzarlo sia nel caso in cui vogliamo farne uno nuovo oppure magari riparare il power bank quello che avevamo magari in precedenza o comunque quello che si è rotto quindi in questo caso vedremo questo piccolo circuitino che permette di fare diciamo la gestione di alcune batterie a litio allora cosa serve prima di tutto questo modulo su questo modulo ovvero il t 68 45 c è presente un chip integrato il ht 49 28 s questo qui non è altro che il cuore di questo piccolo moduletto infatti questo piccolo chip integra all'interno varie tecnologie in particolare permette di avere sia l'elevazione della tensione quindi va ad effettuare l'elevazione della tensione in quanto noi collegheremo delle batterie litio che sono con una tensione più bassa rispetto ad esempio i classici 5 volt quindi c'è la necessità di aumentare la nostra tensione di alimentazione o comunque la tensione di ricarica perché noi in uscita del power bank abbiamo la necessità di avere 5 volt le batterie cariche massimo massimo erogano 4, qualcosa quindi ovviamente il circuito deve riuscire ad elevare la tensione quindi ha una diciamo funzione step up in più deve effettuare la ricarica delle nostre batterie ovviamente anche consentire ovviamente la ricarica delle batterie gestire ovviamente la scarica anche delle batterie in quanto non devono ad esempio scendere sotto una determinata soglia in quanto potrebbero degradarsi quindi fa una gestione totale di carica ricarica e quindi anche ovviamente la classica funzione di un power bank come vi stavo dicendo poco fa quindi serve sia per ricaricare controllare le batterie come ad esempio le classiche 18 650 questo moduletto pur essendo un modulo molto piccolo e come vedremo molto compatto riesce a fornire corrente di carica e scarica fino al massimo di un ampere ideali quasi per ricaricare tutti i nostri dispositivi tra cui anche gli smartphone in particolare il modulo ha anche dei led integrati che ci permette di capire sia la fase di carica e delle nostre batterie alcune caratteristiche qua potete vedere il moduletto come vedete molto molto compatto 21,7 mm x 17,2 mm allora ovviamente accetta tensione d'ingresso da 3,75 a 5,5 volte in corrente continuo quindi delle batterie che vanno in questo range in uscita ovviamente darà una tensione continua di 5 volt ecco perché deve questo è il circuito integrato che vi ho detto poco fa e permette l'elevazione della tensione e quindi portare una tensione idonea a ricaricare i nostri dispositivi ovvero la classica 5 volt permette una corrente di uscita di un ampere ovviamente una corrente di ricarica di carica delle nostre batterie di un ampere massimo il controllo quindi fa anche un controllo e una gestione delle nostre batterie del nostro pacco batterie collegato a questo moduletto e permette di bloccare la scarica delle batterie infatti nel momento in cui la tensione delle batterie arriva a 2,9 volt il circuito non regorrerà più corrente quindi dovrà essere ricaricato e questo permette di mantenere le nostre batterie in salute in più permette di avere una bassissima corrente in stand by infatti arriva ad avere una corrente di consumo quando sta fermo di 8 mAh davvero una corrente molto bassa la configurazione dei pin allora sono presenti su questo moduletto due porte usb una di tipo a e una di tipo micro tipo b poi ci sono i punti di connessione dove andare a saldare i fili delle nostre batterie denominati b meno e b più la usb di tipo a è ovviamente l'uscita e serve per collegare i nostri dispositivi da ricaricare o alimentare invece la porta usb di tipo b quella micro serve per collegare un alimentatore un qualcosa da 5 volt ovviamente per ricaricare le batterie questo moduletto ci permette di capire quando le batterie sono in carica infatti nel momento in cui sta ricaricando le batterie il led in dotazione presente sul moduletto che è un led rosso lampeggia quindi se il nostro modulo il nostro led lampeggia il modulo ci fa capire che sta ricaricando le batterie quindi ancora la carica non è terminata nel momento in cui va a terminare la carica quindi rileva una tensione idonea alle batterie litio lui praticamente ce lo segnala per mezzo di una dell'accensione del dio da led però in questo modo in questo caso continuativa quindi non andremo più a vedere un led lampeggiante ma bensì sempre acceso e questo ci farà capire che le batterie sono cariche quindi potremo staccare il nostro alimentatore e portare il power bank in giro questo è il nostro diciamo il dettaglio dei pin del power bank qui come potete vedere nella parte superiore presente la uscita quindi l'usb di tipo a quella grande in cui andremo a collegare tutti i nostri dispositivi da alimentare in più possiamo notare il led di segnalazione della ricarica e i due pin dove andare a saldare praticamente il parallelo delle nostre batterie qui vanno collegate tutte le batterie in parallelo ovviamente non in serie ma in parallelo quindi avremo b meno e b più questo è il nostro come vi dicevo poco fa il circuitino il circuito integrato l'ht 49 28 s che è il cuore di questo moduletto e gestisce tutte queste funzionalità ovvero la classica funzione power bank allora qui uno schema generale di collegamento allora nella parte sottostante potete vedere questa è la parte superiore questa parte sottostante questo è l'usb di mic tipo b la micro usb e qui va inserito il nostro alimentatore per ricaricare le batterie qui come potete vedere nell'immagine evidenziato uno smartphone ad esempio che andremo a collegare alla nostra porta di ricarica invece qui è presente il nostro pacco batterie che in questo caso è evidenziato con tre batterie 18 650 in parallelo ovviamente bisogna rispettare la polarità b più e b meno allora ovviamente si può collegare anche soltanto una batteria e quindi se nel momento in cui avremo una batteria lui erogando un ampere ricaricherà ad un ampere quella batteria quindi potete ben capire che meno batteri ci sono più la ricarica sarà effettuata velocemente allora io consiglio di ricarica di ricaricare al massimo di mettere in parallela al massimo 23 batterie perché molto semplicemente nel momento in cui andrete a mettere più batterie l'ampere che viene erogato in uscita verrà partizionato per tutte e tre le batterie quindi un terzo un terzo un terzo e quindi la ricarica sarà un pochino più lunga però la batteria verrà ricaricata con una corrente un pochino più bassa che in questo caso è una cosa buona perché ricaricare una singola batteria un ampere non è diciamo in modo cioè la ricarica avviene molto più velocemente però si ha un degrado della batteria molto più velocemente quindi consiglio un massimo di due tre batterie infatti io ho fatto un piccolo power bank come lo avevo prima di due batterie utilizzato le batterie del mio vecchio dispositivo che si è rotto ed ho collegato alla fine questo piccolo moduletto per ripristinare il power bank però ripeto siccome la ricarica se non ricordo male di una batteria la ricarica idonea per una batteria 18650 è sui 200mAh quindi due 300mAh possono andare bene tre batterie orientativamente sarà un pochino più di 300mAh quindi un tempo maggiore di ricarica però le batterie vengono ricaricate ricaricate scusate in un modo più corretto e quindi con una durata nel tempo maggiore come vedete è un moduletto molto piccolo molto semplice da utilizzare però ci permette di effettuare creare i nostri piccoli power bank da portare in giro adesso effettuiamo una prova io ovviamente ho saldato semplicemente due file delle batterie a questo moduletto e vedremo fisicamente il suo funzionamento quindi passiamo a vederlo fisicamente eccoci qua come vedete questi sono i moduletti ne ho preso più di uno sono molto davvero molto compatti questa è la parte superiore questa è la parte posteriore usb di tipo a usb di tipo b come potete vedere sono molto piccoli questo era il mio vecchio power bank all'interno di questo power bank erano presenti queste due batterie questo questo power bank è stato anche oggetto di un altro video in cui avevo fatto una piccola modifica con un interruttore una resistenza in modo tale da farlo rimanere acceso perché il power bank se non assorbe una determinata quantità di corrente non rimaneva acceso l'avevo modificato e andava tutto bene successivamente mi è caduto si è aperto praticamente totalmente aperto sono fuoriuscite le batterie quando sono andato a rimontarlo ho notato che il circuito presente sul mio power bank non dava più segni di vita non ho provato nemmeno a ripararlo perché non ne valeva nemmeno la pena come vedete come vi accennavo poco fa al computer ho trovato questi moduletti non ho fatto altro che saldare il parallelo di queste due batterie che sono delle 18 650 messe in parallelo i due cavi collegate su bat meno e bat più molto semplice una saldatura molto semplice quindi questo circuito adesso andrà a sostituire il circuito fatto in precedenza allora un'idea che si potrebbe fare ad esempio nel caso in cui avete un power bank rotto comunque delle vecchie batterie di riciclo ad esempio questo oggetto anche un altro video praticamente in un altro video avevo smantellato totalmente un mio vecchio portatile e pian piano sto facendo vedere in piccoli video come poter riciclare vari pezzi un'idea potrebbe essere ad esempio riciclare il pacco batterie questo è il pacco batterie che era presente sul mio portatile ad esempio potrei tranquillamente realizzare dei piccoli power bank nulla toglie che io posso comunque tagliare le varie batterie e crearne ad esempio tanti di questi qua piccolini un contenitore che si potrebbe utilizzare sempre nel mio stile di riciclo è ad esempio quel contenitore io di solito conservo sempre quei contenitori delle viti che compro al brico perché magari io ci metto dei circuitini dei prototipi che faccio io sono dei contenitori di plastica che possono sempre servire il mio vecchio power bank non è più utilizzabile il vecchio case avevo pensato di utilizzare questo vecchio contenitore delle viti metterlo ad esempio con un po' di ad esempio in questo modo fare un foro metterlo con la colla a caldo per realizzare un semplice power bank fai da te di questi potete farne quante volete se avete ad esempio delle batterie di riciclo oppure come vi stavo accennando andremo a riparare il vecchio power bank quindi quello che mi era rimasto erano le due batterie in questo caso sono presenti due batterie come vi accennavo prima potete anche magari arrivare semplicemente a tre batterie andare oltre poi comunque il tempo di ricarica diventa un pochino più più consistente comunque nulla toglie che si possono mettere n batterie però ripeto l'ampere di ricarica si va a ripartire per tutte le batterie due tre batterie possono andare benissimo ci danno una buona autonomia comunque anche una ricarica di uno smartphone va più che bene quindi nel momento in cui avete il vostro circuito avete le vostre batterie andate a saldarle e il tutto molto semplicemente è risolto ora facciamo il test andiamo proviamo a ricaricare un dispositivo ad esempio questo smartphone vediamo quindi vado ad inserire il mio cavetto usb a questo punto nel momento in cui inserirò usb nella presa di tipo a quindi quella destinata a ricaricare i dispositivi il mio power bank dovrebbe accendersi come vedete è partita anche la ricarica il led sul mio moduletto si è acceso quando sta erogando corrente che sta caricando un dispositivo praticamente il led lampeggia ma non in modo continuativo diciamo sta un attimino per qualche secondo fermo e poi fa un lampeggio come vedete sta tranquillamente ricaricando il mio dispositivo ipotizziamo che invece volessi ricaricare il power bank cosa devo fare ovviamente stacco il mio dispositivo lo collego ad un alimentatore in questo caso un semplice alimentatore di uno smartphone che eroga vediamo 5 volt se non ricordo massimo un ampere quindi collego il mio dispositivo vado nella presa retrostante quindi nella porta usb di tipo b e vado ad effettuare la ricarica quindi lo inserisco dopo averlo inserito come vedete in questo caso il led lampeggia ma molto più velocemente in fase di carica del dispositivo lampeggiava però stava un po di secondi fermo e poi faceva un singolo lampeggio quando invece sta ricaricando le batterie il lampeggio è molto più veloce come vedete è un lampeggio quasi ogni secondo quando le batterie saranno totalmente ricaricate il moduletto se ne accorgerà e il led ovviamente rimarrà sempre fisso e voi sarete pronti a prendere il vostro power bank e a portarlo fuori o comunque metterlo da parte nel caso in cui potesse potrebbe servire che dire un semplice un semplice video un modo di creare o riciclare delle vecchie batterie a litio oppure di riparare un vecchio power bank ormai non più funzionante che dire se vi è piaciuto mettete un like se vi va d'interno aggiornati su quello che faccio iscrivetevi al canale alla prossima grazie grazie